Il tragico incidente registrato pochi giorni fa sulla SP43 nel comune di Pietracamela nel Terramano in cui hanno perso la vita due automobilisti ha riaperto la delicata questione della sicurezza sulle strade, in particolar modo su quelle montane. La situazione della via vita è stato uno dei primi punti su cui il nuovo presidente della provincia di Terramo, Camillo D'Angelo, sin dal suo insediamento, si è messo al lavoro e proprio per quella strada la SP43 che sale pratitivo ha annunciato un milione di euro per lavori su asfalti e guardrail. La provincia vuole spendere, sta già pianificando degli interventi, sarà rifatto gran parte, tre quarti della pavimentazione stradale, quindi dell'asfalto, ma non ci fermeremo lì, ripareremo e miglioreremo anche le protezioni verso valle, quindi guardrail, e con molta probabilità interesseremo, attraverso un progetto fatto internamente dalla provincia, anche la messa in sicurezza del costone roccioso, quindi tutto ciò che può essere un rischio frana su quella strada. I chilometri sono tanti, 1500 chilometri, soprattutto in montagna e soprattutto purtroppo in zone difficili, impervie e molto costose da mettere in sicurezza. È stato inoltre annunciato un nuovo piano per la sicurezza su strada che si chiamerà Smart Road. Si parte dalla SP8 del Salinello per poi passare ad altre arterie principali della viabilità provinciale. Partiremo dall'SP8, poi passeremo all'SP3 e poi alla Teramo Mare, mettendo un sistema di videosorveglianza, che non sarà solo una videosorveglianza nel senso stretto del termine, ma permetterà di monitorare quali, quanti e come il numero di veicoli passeranno su queste strade. Quindi attraverso dei segnali digitali che sono dinamici, non più statici, potranno dare indicazioni ai veicoli e quindi modificare, o meglio controllare, la velocità di percorrenza, soprattutto anche attraverso un sistema di tutor che consentirà di fare le multe e indicare quanti automobili vanno oltre i limiti di velocità, perché la velocità è sicuramente il primo problema e quindi prima causa dell'incidente. Il Presidente infine ha avviato una interlocuzione per passare tre provinciali all'ANAS.